Nuovo appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere al cura del dottor Andrea Ricci Oggi parliamo del rosmarino. Dottore, quali sono le proprietà del rosmarino e quali sono i suoi benefici? Sì, allora, in effetti, dopo aver parlato la settimana scorsa della salvia, quest'oggi parliamo sempre di una pianta aromatica appartenente alla stessa famiglia, cioè quella delle lamiace. Il rosmarino è una pianta appartenente, diciamo, al bacino del Mediterraneo, quindi è facile trovarla lungo le nostre fasce costiere. È una pianta a carattere cespuglioso, sempre verdi, con queste foglie molto molto strette, che di solito vengono raccolte nel periodo primaveri d'Ilia, però sono disponibili in effetti durante tutto l'anno, anche in forma essiccata. Ciò che caratterizza il rosmarino, ovviamente, è il suo aroma. Questo è dovuto a tutta una serie di molecole, come il limonene, il pinene, il cineolo, e anche molte molecole antiossidanti, cioè quei terpeni e polifenoli, che ci aiutano a contrastare i radicali libri e quindi a prevenire tutta una serie di patologie. Ovviamente, così come detto per la salvia, anche per il rosmarino, il consumo reale che se ne fa è veramente molto poco, perché viene utilizzato soprattutto per aromatizzare i piatti. E quindi le 96 calorie per 100 grammi, insomma, è un po' un dato relativo. Quello che è importante è che comunque contiene moltissimi sali minerali, quindi potassio, calcio, fosforo, ferro e anche vitamine, soprattutto la vitamina A, la vitamina C e in quota minore la vitamina K. Le altre proprietà riguardano la grande ricchezza d'acqua e di potassio, che quindi rendono il rosmarino un alimento diuretico e quindi che ci aiuta a contrastare anche la pressione arteriosa. Aumenta la secrezione gastrica, quindi facilita la digestione, aiuta quelle che sono le funzioni cognitive e quindi migliora anche la memoria e la concentrazione. E anche delle attività antimicrobiche e antispasmodiche, quindi facilita il rilassamento dell'intestino contrastando la stipsi. E anche proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche. Ci sono controindicazioni per chi ne fa un uso eccessivo? Sì, allora le controindicazioni vere e proprie riguardano chi soffre di calcolosi biliare, perché comunque ha proprietà coleretiche, cioè aumentano la secrezione biliare. Altre controindicazioni riguardano un uso eccessivo di olio essenziale, che può dare disturbi gastrici o intestinali. Chi fa una terapia anticoagulante per la presenza della vitamina K e proprio un consumo eccessivo può dare luogo a delle dermatiti, quindi a livello cutaneo. Va bene, grazie dottore, grazie a voi per averci ascoltato. Vi ricordiamo che per ogni suggerimento potete scrivere la nostra email redazione chiocciola cilento channel oppure andate a trovare il dottore nello suo studio. Grazie e alla prossima settimana. Grazie.